ma l'hai portata a scuola questo libro qui dove l'hai comprato ma che c'è scritto qui che c'è scritto qui pubblicazione ma te la vendono lo stesso tu li legge questi libretti perché ti piacciono a macchiura e perché sono belli e sono belli perché spiegati perché c'è no vediamo cosa leggi tu io leggo messalina lucrezia questi diabolica cosa sta a fare come come a questo che è questo che è questo che non la voglio vedere cos'è e fammi vedere che è ma quello ripria ma tu l'hai letto questo qui no non l'ho letto non lo leggo non lo leggo ti piacciono questi qui sono fumetti ma ti piacciono questi qui no non di la bugie perché tu a me mi dici la verità perché ti spiegami perché ti piacciono perché da una parte non mi piacciono perché vince sempre questo qua chi è questo qua killing e dall'altro da un altro mi piace perché è un bel romanzo ma spiegami perché è un bel romanzo perché fa finta che uccide non uccide le donne le strozza le donne le strozza è un romanzo di vendetta a me mi piacciono quelli ti piacciono di vendetta questo è di vendetta cosa vuol dire di vendetta che uno ha uccido il padre lui dice che si deve indicare a te ti piace la vendetta ma le donne che c'entrano e le stranque perché loro sono sono dicono tutto alla buzia qualche volta ma sono spie è